Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata pancetta e indivia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Ingredienti sono una dose di pasta brisè, parmigiano grattugiato, pancetta, indivia riccia, vino bianco, formaggio spammabile, noce moscata, olio, sale, pepe e un uomo. Andiamo in via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del portale l'olio, pancetta, indivia riccia, iniziamo con il copaccio di vino, regazione a bimbi per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo il vino bianco, facciamo cuocere per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Trasferire il composto di indivia sulla pasta brisè che abbiamo stessa e pucherellato a bimbi per la forchetta. Senza lavare il boccale mettiamo nel boccale il formaggio spammabile, uovo, grigiano, il sale, il pepe e la noce moscata. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi, a velocità 3. Versiamo il composto sull'indivia. Aggiungiamo bene i bordi. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Torta salata, pancetta e indivia. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!